Omicidi, spionaggio politico, versamenti incontanti e ora un box misterioso. Oh, è così intrigante. E come pensi di aprirlo? Beh, quando il gioco si fa duro. Per motivi troppo complicati da spiegare lo trovo eccitante. Oppure, ho preso queste dagli effetti personali del nostro Amir. Se questo è il suo box... Tu cosa credi ci sia dentro? Non lo so. Magari è vuoto, come il cavo di Al Capone. Oh no, pensa a tutte le cose fantastiche che si possono trovare in un box. L'arca dell'alleanza, dottor Jones? Beh, anche l'arca era in una cassa. Esplosivo plastico. Carson, fuori! Fuori! Che cosa? Perché? Io... Allontanati più velocemente che puoi! Corri! Che cos'è quello a fare, Kate? Detective Bennett, matricola 0334. Sono stata esposta ad alti livelli di radiazioni. Mandate subito una squadra di emergenza. Che cos'è quello a fare, Kate? 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 Che cos'è quello a fare, Kate?